La password del vostro wifi? Squalo 2021 Ah, zero Ecco dove stava Posso? Sono il garante della privacy Ma lo sapete che le password proteggono l'accesso alle vostre informazioni più riservate? Foto, messaggi, conto bancario E se qualcuno vi ruba le password Può impossessarsi di una parte della vostra vita Ma allora che cosa possiamo fare? Non utilizzate password prevedibili Inventate formule complicate, mai le stesse per i diversi account Altrimenti rubate una password, rubate tutte E cambiatele spesso E se volete saperne di più, informatevi sul sito del garante Ma lei sa proprio tutto di privacy Eh, ci lavoro da quando sono nato E ora che mi conoscete, potete contattarmi quando volete Se proteggi i tuoi dati, proteggi te stesso